Ecco qua che il 4 marzo ho da fare appena marzo, devo correre a votare come andassi a defegare. Sì, è vero, andiamo al voto, ma grattarci sono un scrodo, perché sta legge elettorale è assai poco costituzionale, è solo fatta e ben studiata per legger gente nominata. Non è certo l'occasione per mettere a posto la questione, né per scegliere chi ci pare da mandare a governare. Serviamo solo pa' vallare chi ha scelto loro a comandare, che in due lustri maledetti han governato sempre non elettro. Non c'è destra e non c'è manca che non sia piena di fanga, poi nel centro d'ogni schiera son mischiati a cremaglieri, perché tutti i gran papponi son più da lì e i suoi ladroni. Allor preme il proprio affare, poco gli frega del tuo campare, però ti stanno a sopportare perché gli servi per votare. Poi ci trattano da coglioni perché ci sanno creduloni, basta promettere mari e monti e ci rimandano sotto i ponti. Sous-titrage Société Radio-Canada Grazie a tutti.